video ricetta del dulce de lecce ingredienti un litro di latte un litro di panna fresca 1 2 grammi di bicarbonato 50 grammi di miele 300 grammi di zucchero 4 grammi di amido di mais un pizzico di vaniglia mescolare assieme le polveri zucchero bicarbonato sale e vaniglia mettere una pentola sul fuoco e versare il latte e la panna fresca far intiepidire e aggiungere il composto di zucchero mescolare per farlo sciogliere e poi unire il miele mescolare ancora e far cuocere la crema di latte per due o tre ore sul fuoco mescolando di tanto in tanto e facendo attenzione che la schiuma che compare all'inizio non esca dalla pentola quando la crema risulta densa e scura farla intiepidire poi metterla negli appositi barattoli chiudere infine i barattoli e conservare la crema in luogo fresco e asciutto